Ennesima aggressione al personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale San Polo di Monfalcone. In orario notturno, verso le 23, un giovane di origine bosnia che in evidente stato di alterazione ha colpito con un calcio all'addome un medico dell'emergenza. Il 22enne era stato accompagnato al pronto soccorso dai carabinieri perché era stato segnalato da una donna in via Timavo come potenzialmente pericoloso e molto agitato, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In sala d'attesa un'operatrice sanitaria ha dovuto impugnare una bomboletta di spray anti-aggressione per far fronte alla reazione scomposta del giovane, il quale, mentre veniva bloccato dai militari dell'Arba e sedato da un medico, è riuscito a sferrare un calcio a quest'ultimo. Un episodio che si aggiunge ad altre recenti aggressioni al personale medico e infermieristico. Asugi ha confermato l'immediata attivazione di quanto concordato la scorsa settimana al tavolo prefettizio dove è stata stabilita l'istituzione di un servizio di vigilanza con guardia giurata in turno dalle 22 alle 6 del mattino. Comune di Monfalcone e azienda sanitaria chiederanno inoltre un incontro alla regione al fine di ricercare soluzioni anche per la carenza di personale medico-infermieristico con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del nosocomio cittadino.